Novità in merito all'autorità di bacino della Presidenza della Regione, che sarà il referente unico in Sicilia per l'utilizzo della piattaforma nazionale dei contratti di fiume. A stabilirlo il Governo regionale che, avviando l'ITER per l'utilizzo di questo importante strumento operativo con il coordinamento del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, agevolerà le attività di tutela del suolo e di mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico. Nello specifico si definiscono contratti di fiume gli strumenti di programmazione strategica e negoziata per la corretta gestione delle risorse idriche, la valorizzazione dei territori fluviali e la salvaguardia del rischio idraulico. La piattaforma nazionale dei contratti di fiume è invece uno strumento essenziale per la raccolta di informazioni, il monitoraggio dei processi e la messa al sistema di azioni specifiche realizzate sui territori, che opera grazie a un sistema informatico di comunicazione e una banca dati in cui sono archiviate le informazioni che caratterizzano i singoli contratti. Informazioni, quest'ultime, che vengono poi elaborate e pubblicate sotto forma di statistiche e report, in formato alfanumerico, grafico, tabellare e geotopocartografico.